La rovina della casa degli Osher Per tutta una fosca giornata oscura e sorda, l'autunno, col cielo greve e basso di nuvole, avevo cavalcato da solo attraverso una campagna singolarmente lugubre, fino a che mi trovai, mentre già cadeva l'ombra della sera, in vista della malinconica casa degli Osher. Non so come, ma appena l'ebbi guardata, una sensazione di insopportabile tristezza mi prese l'anima. Insopportabile, dico, già che non si univa al sentimento poetico, è perciò quasi piacevole che accompagna in genere le immagini naturali anche quando siano le più cupe della desolazione e del terrore. Guardavo la scena che mi stava davanti, e lo spettacolo della casa e del paesaggio all'intorno, le fredde mura, le finestre come vuote orbite, i radi filari di giunchi e alcuni bianchi tronchi rinsecchiti, mi davano un avvilimento così estremo che potrei paragonarlo soltanto allo stato del mangiatore doppio durante l'amaro ritorno alla realtà quotidiana, l'orribile momento in cui il velo di legua. Era un gelo nel cuore, una pressione, un malessere, e nel lamento un invincibile orrore che la rendeva inerte ad ogni stimolo della fantasia. Che cosa, dunque, mi soffermai a pensare? Rendeva tanto penosa la contemplazione della casa degli Osher. Ma rimaneva un mistero insolubile, e io riuscivo ad aver ragione delle ubbie tenebrose che mi si affollavano dentro mentre riflettevo. E fui costretto a ritrarmi sulla conclusione poco soddisfacente che esistono combinazioni di oggetti naturali e semplicissimi che hanno potere di rattristarci fino a un tal punto, ancorché l'analisi di questo potere dipende da considerazioni troppo profonde rispetto a noi. Pensavo che forse una qualsiasi differenza nella disposizione degli elementi della scena, dei particolari del quadro, sarebbe bastata a modificare o persino forse a distruggere tanta forza di dolorosa impressione. Condussi il cavallo sulla riva scoscesa ad un lugubre stagno d'acqua e morte, che si stendeva nel suo luccicore presso la dimora. E guardai, ma ne ebbe un tremito ancora più profondo. Guardai, riflessa, capovolte, le immagini dei giunchi di cenere, dei tronchi sinistri e delle finestre simili ad occhi vuoti. Era in questo soggiorno di malinconia, che io mi disponevo non di meno a vivere per qualche tempo. Il proprietario, Roderick Usher, era stato fra i più cari compagni della mia infanzia, sebbene parecchi anni fossero trascorsi dall'ultimo nostro incontro. E tuttavia una lettera mi avevo ultimamente raggiunto in una lontana regione del paese. Una lettera di lui, il disperato tono della quale non ammetteva altra risposta che la mia presenza. La calligrafia palesava un'agitazione nervosa. Ed Usher mi parlava di una acuta malattia fisica, di uno squilibrio mentale che l'opprimeva, ed un ardente desiderio di vedermi, chiamandomi il suo migliore ed anzi unico amico. Nella gioia della mia presenza sperava trovare qualche sollievo al suo male. Fu il tono di queste parole e di molte altre ancora, fu la profusione di cuore che accompagnava questa preghiera a non concedermi modo di esitare. E senz'altro obbedì, pur non meravigliandomene, come d'un ordine singolare. Nonostante le intimità che ci avevo uniti da ragazzi, io sapevo ben poco del mio amico. Egli aveva mantenuto d'abitudine un eccessivo riserbo. Mi era noto tuttavia che la sua famiglia antichissima si era distinta da tempo immemorabile per il temperamento di una speciale sensibilità dispiegato attraverso i secoli in opere d'arte elevata e, da ultimo, in ripetuti atti di una generosa, quanto discreta carità, come nella vocazione appassionata per i labirinti della scienza musicale, più forse che per le sue ortodosse e facilmente riconoscibili bellezze. Avevo appreso anche che dal tronco tanto glorioso dell'antica razza degli Osher non erano sorti mai i durevoli rami, che in altre parole, a parte qualche effimera eccezione, l'intera famiglia si era perpetuata nella pura sua discendenza diretta. Era stata questa mancanza, pensavo, e intanto fantasticavo sul perfetto combaciare del carattere del luogo con quello ben noto della razza e riflettevo sull'influenza che in tanti secoli l'uno poteva aver esercitato sull'altro. Era stata forse questa mancanza di deviazione collaterale e la conseguente trasmissione continua di padre in figlio dell'eredità del patrimonio e del nome, a identificarli l'uno nell'altro fino a trasformare il titolo originario della proprietà nell'equivoco e strano appellativo di casa degli Osher. L'appellativo che, per la rustica gente del luogo, sembrava comprendere insieme la famiglia e la sua dimora. Ho detto che il mio atto abbastanza infantile di guardare giù nello stagno aveva avuto per sola conseguenza ad approfondire la prima singolare impressione. E certo la coscienza del rapido intensificarsi della mia superstizione. Perché la chiamerei altrimenti? Era stata in qualche modo l'agente principale. Questa, lo sapevo da tempo, è la regola paradossale di tutti i sentimenti che hanno alla loro base il terrore. E forse soltanto per questo, quando sollevai di nuovo lo sguardo dal riflesso nello stagno verso la casa, subì una bizzarra immaginazione, così ridicola davvero, che ne parlo soltanto per mostrare l'impeto delle sensazioni che m'opprimevano. La mia fantasia era così eccitata che credetti di notare intorno alla proprietà un'atmosfera particolare, sua e degli immediati dintorni, un'atmosfera diversa da quella del cielo, ma che esalavano gli alberi intristiti e la muraglia grigia e la silenziosa palude, una vaporosità pestilenziale e mistica, appena visibile, ma fosca, inerte e color di piombo. Respingendo da me quel che doveva essere stato un sogno, cercai di esaminare meglio l'aspetto reale dell'edificio. Carattere principale mi pareva un'eccessiva antichità. I secoli l'avevano profondamente scolorito al tetto, come un delicato intreccio di tessuto. Ma tutto questo non aveva provocato deperimenti straordinari. La fabbrica era intatta e c'era una contraddizione violenta fra il consistere ancora perfetto delle sue parti e il deperimento delle singole pietre, che mi faceva pensare all'integrità speciosa di qualche vecchia tavola di legno rimasta lungamente a marcire in una cantina dimenticata. lontano dall'aria esterna. Ma a parte questa corrosione di tutta la superficie, la casa pareva ancora abbastanza salda. Forse l'occhio di un puntuale osservatore avrebbe scoperto una quasi impercettibile fessura, che partendo dall'alto della facciata percorreva il muro a zigzag perdendosi infine nelle acque malsane della palude. Sempre osservando queste cose, avevo cavalcato lungo il rialzo che portava alla casa. Qui il guardiano mi prese il cavallo e passai sotto l'arco gotico dell'androne. Un servo dal passo furtivo mi guidò allora in silenzio, percorridò i bui e intricati verso lo studio del padrone. Molto di quel che incontravo per la via valeva, non so come, a rafforzare le oscure impressioni di prima, sebbene le cose fra cui passavo, i foschi arazzi alle pareti, i pavimenti color debano e gli intarsi dei soffitti e i trofei fantasmagorici le cui armature rumoreggiavano dietro ai miei passi fossero ancora quelle o simili a quelle cui ero abituato dall'infanzia. Sebbene non esitassi a riconoscerle per tali, esse ne stavano in me immagini che non mi erano affatto familiari e io me ne stupivo. Lungo una scala incontrai il medico di casa. Mi parve che la sua fisionomia esprimesse un misto di bassa malignità e di timore. Mi incrociò con evidente trepidazione e passò oltre. Il domestico in quel punto aprì la porta e mi introdusse. Mi trovai in una stanza dall'alto soffitto e amplissima. Le lunghe finestre gotiche erano così alte sul nero pavimento di quercia da divenire assolutamente inaccessibili e la debole luce cremisi che attraversava i vetri ingratticciati. Bastava appena lasciar distinguere gli oggetti principali. Gli occhi si sarebbero sforzati in vano di raggiungere i lontani angoli della stanza o i recessi della volta intagliata. Oscuri e razze ricoprivano le pareti. C'era una profusione di mobilio antico incomprante logoro e sparsi ovunque libri e strumenti musicali che non riuscivano ad animare la scena. Mi accorgevo di respirare un'aria di pena un'aria di buia malinconia profonda e irredimibile che sovrastava e pervadeva tutto. Asher al mio ingresso lasciò il sofà sul quale era sdraiato e mi venne incontro con una calda vivacità che mi parve al primo momento fatta ad enfasi esagerata con qualche sforzo per adempiere i noiosi doveri di un uomo di mondo. Ma bastò che guardassi il suo volto per convincermi della sua completa sincerità. ci sedemmo e per qualche istante siccome egli taceva lo contemplai con un senso di spavento e di pietà. Certo in un periodo tanto breve nessun uomo aveva subito mai cambiamento terribile come questo Roderick Osher. Potevo a stento persuadermi dell'identità di questo spettro che stava davanti a me con il compagno della mia infanzia. Pure il suo viso aveva sempre avuto caratteristiche singolari. Il pallore eccezionale gli occhi ampi e liquidi pieni di luce labbra esangui e piuttosto sottili ma meravigliosamente disegnate il naso affilato lievemente ricurvo dalle narizzi stranamente larghe per la sua forma il mento modellato con delicatezza e che tradiva con la sua scarsa prominenza un difetto di volontà. I capelli morbidi e fini tutto questo cui si aggiungeva l'enorme ampiezza della fronte formava una fisionomia che non era facile dimenticare ma ora un cambiamento così intenso vi era stato portato dall'accentuarsi eccessivo di quelle caratteristiche che io non sapevo quasi a quale persona parlassi. Ora la pallidezza da fantasma del volto e il sorprendente splendore dello sguardo mi colpivano in modo speciale e mi mettevano paura. Inoltre egli aveva lasciato che i suoi capelli sottili crescessero a piacere loro vedendoli spumeggiare intorno al suo viso in mille fili selvaggi io non potevo nonostante ogni sforzo riferire questa strana immagine d'arabesco a una qualunque idea di semplice umanità. Avvertii subito nel contegno del mio amico qualche cosa di incoerente ossia di inconsistente e mi accorsi presto che provenisse dal continuo tentativo debole e senza speranza di stormontare un'abituale trepidazione un eccesso d'agitazione nervosa e ci aveva del resto preparato non solo la sua lettera ma anche il ricordo di certi momenti della sua infanzia e tutto quanto si poteva dedurre dalla sua peculiare conformazione fisica e dal temperamento. Nel contegno di Osher si erano sempre alternate vivacità e debolezza la voce le si perdeva sovente in un tremito di indecisione e allora pareva che gli spiriti vitali fossero del tutto scomparsi saliva rapidamente a un tono di concisione energica a una pronuncia acuta e dura compatta insieme vuota a quell'articolazione gutturale ma perfettamente modulata che ci osserva nei più disperati bevitori e negli oppiomani incorreggibili durante i loro più intensi periodi di eccitazione. Fu dunque così che gli mi intrattenne intorno alle ragioni della mia visita al desiderio ardente che aveva di vedermi e conforto che sperava di trovare in me abbastanza a lungo parlò di quel che costituiva secondo lui la natura del suo male si trattava secondo le sue parole di una ancestrale irrimediabile malattia no una semplice affezione nervosa e gli aggiunse immediatamente che sarebbe certo scomparsa tra poco essa si manifestava con una moltitudine di sensazioni anormali mentre me le citava più ed una riuscì a interessarmi e a turbarmi ma forse c'è trovolto il tono delle parole lo tormentava una morbosa acutezza dei sensi soltanto i cibi privi di qualsiasi sapore gli riusciva di tollerare soltanto di certe stoffe si poteva vestire il profumo dei fiori lo soffocava gli occhi si sentiva torturati dalla più debole luce ed ogni musica salvo certi suoni degli strumenti a corda gli dava orrore capì che era lo schiavo impotente ed una strana forma di terrore finirò per morire mi disse e io devo morire di questa maledetta vazia finirò così così e non altrimenti se ho paura di quel che sta per venire non è altro che per i suoi effetti su di me mi dai brividi pensare alle conseguenze che un qualsiasi incidente anche il più banale può avere su questa agitazione tremenda della mia anima davvero non provo orrore del pericolo che per la sua conseguenza si cura il terrore sento che in questo mio triste stato in questo stato di impotenza vado incontro presto o tardi al momento che la vita e la ragione mi abbandoneranno allo stesso tempo nel mentre si dibattono contro il sinistro spettro la paura apprese anche per intervalli e attraverso confidenza rotte ed ambigue un altro strano aspetto della sua situazione morale si sentiva incatenato a impressioni superstiziose riguardanti la sua dimora dalla quale non osavo uscire da molti anni riguardanti un influsso della cui presunta potenza egli parlò con parole troppo tenebrose perché io lo possa riportare qui un influsso che erano riusciti ad ottenere su di lui per via di lunghe sofferenze dall'une caratteristiche della forma e della materia stessa della dimora a vita un influsso esercitato a poco a poco sulla sua esistenza morale dal fisico delle torri e dei muri grigi e della nera palude che li rifletteva esitando egli ammetteva tuttavia che gran parte della sua singolare tristezza proveniva da un'origine più naturale e molto più semplice dalla malattia lunga ed aspra anzi dall'evidente avvicinarsi della morte di una sorella adorata sua sola compagna per molti anni sua sola parente ormai sulla terra la morte di lei che gli proseguì con un'amarezza che non dimenticherò più mi farà l'ultimo dell'antica razza degli Osher resterò solo io così fragile e disperato mentre parlava Lady Madeleine poiché questo era il suo nome lentamente passò per il fondo della stanza e sparì senza darmi segno ad essersi accorta di me mi suscitò uno stupore estremo e paura non riuscii però nemmeno a rendermi conto di queste sensazioni un'atmosfera di spallordimento opprimeva intanto che i suoi passi si allontanavano allorché infine una porta si fu chiusa dietro di lei il mio sguardo cercò con ansia istintiva lo sguardo del fratello ma egli aveva seppellito il viso tra le mani e potei soltanto vedere che una bianchezza anormale gli aveva preso le dita smagrite ed umide di lacrime la malattia di Lady Madeleine si faceva gioco da tempo della scienza dei medici le strane sue caratteristiche consistevano nell'ostinata apatia nel progressivo sfinimento del fisico rotti da crisi rapide e frequenti di semi catalessi fin'allora ella aveva portato il suo peso con fermezza e neppur si era rassegnata a restare a letto ma sulla fine della mia prima serata nella casa bisognò che cedesse così mi informò durante la notte e con immensa agitazione il fratello alla potenza del male seppi che probabilmente non sarebbe più apparsa il mio sguardo che almeno vivente non l'avrei più riveduta né Osher né io per alcuni giorni pronunciammo il suo nome in questo periodo non risfermiai sforzi per confortare il mio amico e leggevamo e dipingevamo e ascoltavo talvolta come dentro un sogno le sfrenate e suggestive sue improvvisazioni con la chitarra meglio la nostra crescente intimità mi permetteva di entrare nel fondo della sua anima e meglio potevo comprendere quanto amaramente inutili fossero tutti gli sforzi per risanare uno spirito dal quale il buio come una qualità sua particolare e positiva si riversava in un'incessante irradiazione luttuosa sopra tutti gli oggetti dell'universo peserà sempre su di me il ricordo delle molte ore gravi che trascorsi così io solo col padrone della casa degli Osher ma tenterà in vano di riferire con esattezza il carattere degli studi ed occupazioni nei quali egli mi implicava una spiritualità morbosa illuminava le cose con il suo splendore di zolfo le lunghe nenie che Osher improvvisava risuoneranno eternamente nella mia mente e rammento in modo speciale una perversa sconcertante deformazione dell'ultimo waltzer del selvaggio ultimo waltzer di Weber quanto alla pittura che nasceva dal calore della tormentata immaginazione e che io vedevo concretarsi pennellata per pennellata in misteriose forme che più non riuscivo a comprendere e più mi facevano rabbrividire quanto alla sua pittura benché ne abbia tuttora l'immagine viva davanti agli occhi non saprei ridurne che una parte minima dentro al compasso della parola scritta il pittore afferrava teneva stretta l'attenzione attraverso un'estrema semplicità e quasi nudità di mezzi se riuscì mai un mortale a dipingere un'idea questo mortale fu Osher certo per me nelle circostanze in cui mi trovavo dalle astrazioni che il mio malinconico compagno si infervorava a dipingere sorgeva una irresistibile impressione di terrore impressione che non ha neppure per ombra provato a contemplare le puri incandescenti ma troppo concrete fantasmagorie di fuseli forse una tra queste rappresentazioni fantasmagoriche del mio amico perché meno rigidamente astratta può venire lievemente adombrata dalle parole si trattava di una piccola tela con un interno di cantina o di sotterraneo rettangolare immensamente lungo dalle pareti basse bianco liscio senza interruzione né ornamento alcuni particolari del disegno servivano a lasciar comprendere come ci si trovasse in una enorme profondità sotto la superficie della terra e l'ampia distesa del sotterraneo non si scorgevano uscite e non si scorgevano torce né altre sorgenti di luce ma un incomprensibile fiume di raggi lo riempiva di uno splendore intenso squallido e solitario ho accennato come il nervo acustico dell'inferice non tollerasse nessuna musica all'infuori che certi suoni degli strumenti a corda era stata forse la ristrettezza dei limiti dentro ai quali per questa affezione morbosa egli era costretto a suonare la chitarra che aveva in gran parte provocato la bizzarria delle sue composizioni ma non si poteva pensare così della fremente facilità dei suoi impromptus sia le note sia le parole delle sue sfrenate fantasie egli accompagnava spesso la propria musica con dei versi dovevano essere ed erano infatti il risultato di quell'intensa concentrazione di forze spirituali che come ho detto più sopra si produce in momenti specialissimi della più acuta eccitazione artificiale ho potuto ricostruire facilmente nella mia memoria le parole d'una delle rapsodie mi impressionarono forse più del giusto quando le conobbi perché nel loro profondo o diciamo più mistico significato credetti per la prima volta di scoprire una piena coscienza da parte di Osher che la ragione gli oscurava questi versi si intitolavano il palazzo maledetto e se non precisamente almeno presse poco suonavano così nella nostra più verde vallata abitata dagli angeli un palazzo grandioso una volta una volta innalzava la fronte la giante nel dominio del re pensiero la sua fronte si ergeva laggiù ma spiegò serafino le ali su dimora splendente così sulla cima ondeggiavano al vento vittoriose bandiere dorate è lontan tutto questo nel tempo è lontano di tanto tempo fa in quei giorni felici dall'ora a ogni fragile fiato di vento lungo i chiari bastioni fra l'erba passava un profumo leggero il viandante guardando il castello due finestre lucenti scorgeva e là dietro movimenti armoniosi di fantasmi abbedienti ad un liuto tutti intorno ad un trono seduto porfiro genito il re era nella sua gloria veduto scintillava di perle e rubini la porta del bel palazzo e ne usciva torrenti e torrenti una folla smagliante di echi la cui dolce funzione era solo di cantare 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 con le voci più belle del mondo la sapienza sottile del re ma geni del male vestiti a lutto assalirono la casa del monarca oh piangiamo piangiamo che mai l'indomani avrà alba per lui sicché intorno alla casa la gloria risplendente una volta di porpora si è mutata in oscura memoria degli anni travolti laggiù chi percorre ancora la valle dietro quelle vetrate rossastre scorge forma in un moto confuso ode musiche senza ritmo mentre esce una folla di mostri attraversa la porta oscura come un fiume lugubre in piena ride ma non sorride più ricordo con esattezza che abbandonandoci alla corrente di sensazioni e di idee estate da questa ballata lungiamo ad un punto dove si rese manifesta un'opinione di oscher che desidero citare non per la sua assoluta novità poiché altri hanno affermato la stessa cosa ma per l'energia ostinata con la quale egli la sosteneva quest'opinione in complesso riguardava la sensibilità del mondo vegetale sensibilità che oscher affermava con forza ma nella sua mente eccitata essa aveva preso un carattere più audace e sotto certe speciali condizioni abbracciava l'intero mondo inorganico mi mancano le parole per esprimere la pienezza la canita certezza di questa sua convinzione essa si riattaccava in ogni modo come ho accennato alla realtà singola della vecchia dimora delle sue pietre grigie le condizioni necessarie per la sensibilità erano state osservate qui egli pensava nel metodo seguito per collocare ogni pietra nell'ordine che si era loro dato e nell'ordine naturale in cui le fungosità che le ricoprivano erano cresciute in cui gli alberi intristiti le circondavano soprattutto nella lunga immutabilità della scena e in quel suo riflettersi dentro le acque immobili dello stagno l'evidenza di questo loro sentire si manifestava secondo oscher e qui le sue parole mi fecero trasalire nel concentrarsi lento ma costante di un'atmosfera particolare intorno ai muri alle acque ed egli aggiunse che se ne potevano vedere risultati nell'influenza silenziosa ma crudele che aveva reso lui quale adesso lo vedevo quale adesso era opinioni simili non si possono commentare i nostri libri i libri che per anni avevano formato non piccola parte della vita spirituale dell'infermo erano e lo si può immaginare in relazione stretta con il suo carattere di visionario leggiamo attentamente insieme opere come vervee chartreuse di gresset bel fagor di macchiavelli cielo inferno di swedenborg il viaggio sotterraneo di nicola klim di holberg le chilomanzie di robert flud di jen d'indagin di de la chambre il viaggio dentro l'azzurro di tic e la città del sole di campanella fra i libri favoriti era una piccola edizione in ottavo del directorium inquisitorium del domenicano heimerick de chiron e c'erano pagine di pomponi o mela intorno agli antichi satiri africani e agli egiziani sulle quali Osher restava a sognare per ore e ore ma la sua delizia era un quarto gotico eccezionalmente curioso il manuale di una chiesa dimenticata le vigili a mortorum secundum corum ecclesie maguntine non potei a meno di ricordare le strane ritualità contenute in questo volume quando una sera dopo avermi bruscamente informato della morte di Lady Madeleine egli mi comunicò la sua intenzione di conservare il corpo di lei per una quindicina di giorni in attesa del definitivo seppellimento in uno dei molti sotterranei scavati dentro le mura maestre dell'edificio egli attribuiva al suo disegno però una ragione più umana tanto che non mi parve lecito discuterlo mi disse che lo guidava il pensiero della stranezza della malattia che gli aveva rapito la sorella e della importuna e violenta curiosità scientifica dei suoi medici che avrebbero potuto approfittare per questo della situazione remota ed indifesa della tomba di famiglia non nascondo che rammentando il contegno e la fisionomia a sinistra dell'uomo incontrato la prima sera sulle scale mi parve di non dovermi opporre in alcun modo a tale precauzione in ogni caso assolutamente innocua e niente affatto innaturale dietro preghiera di Osher lo aiutai nei preparativi per la sepoltura provvisoria disposto il corpo nella bara lo portammo noi soli verso il suo primo riposo il sotterraneo dove lo deponemmo non veniva aperto da tempo infinito e le nostre torce soffocate dall'atmosfera opprimente davano scarsissima luce esso appariva piccolo umido senza comunicazione col chiarore del giorno era situato a una grande profondità proprio al di sotto dell'ala dell'edificio dove si trovava anche il mio appartamento negli antichi secoli del feudalesimo doveva essere stato usato come segreta per i casi peggiori più tardi come deposito di polvere o d'altre sostanze combustibili e il suolo così come tutto il lungo passaggio a volta che precedeva era accuratamente foderato di rame e così la porta che era di ferro massizzo il suo peso enorme diede un suono singolarmente acuto e stridente quando la si fece girare sui cardini deponemmo dunque il nostro lugubre fardello in questo luogo d'orrore su dei cavalletti spostammo leggermente il coperchio della bara non ancora inchiodato e tenemmo un momento gli occhi fissi sul volto del cadavere mi colpì immediatamente l'intensa rassomiglianza col fratello e Osher come indovinando il mio pensiero mormorò che lui e la defunta erano gemelli e che inesplicabili affinità li avevano uniti i nostri sguardi tuttavia non restarono su di lei a lungo c'era impossibile contemplarlo senza terrore il male che aveva vinto Lady Madeleine nella piena giovinezza aveva lasciato l'ironia di un leggero colore rosio come succede di solito nelle malattie a stretto carattere catalettico sul collo e sul volto e le labbra conservavano un sorriso il sorriso stanco e ambiguo che è tanto pauroso nella morte rimettemmo al suo posto e fissammo con le viti il coperchio chiusa bene la porta di ferro riprendemmo con pena il cammino verso gli appartamenti superiori che ci davano scarsa promessa di conforto dopo alcuni giorni di dolore il disordine spirituale del mio amico subì una evidente trasformazione egli non si comportava più come prima trascurava e dimenticava le sue occupazioni abituali errava distanza in stanza senza scopo a passi ineguali e precipitosi e la sua pallidezza si era fatta se possibile ancora più spettrale ma gli occhi avevano perduto ogni luce non tornavano più nella voce quegli accenti di incisività rauca adesso egli parlava sempre con un tremito come d'estremo terrore erano davvero momenti che io sospettavo nella sua mente il tormento di un chiuso segreto per la cui rivelazione gli mancasse il coraggio a volte dovevo vedere in tutto questo soltanto il segno della pazzia poiché mi accadeva di trovare Osher a guardare nel vuoto e così restava per lunghe ore nell'attitudine di chi ascolti con attenzione profonda qualche immaginario rumore ci si può meravigliare che il suo stato mi opprimesse e che anzi provocasse in me una specie di contagio sentivo arrampicarsi sulla mia anima con un progresso lento e incessante il contagio delle folli superstizioni fu specialmente verso la settima ottava notte dopo il trasporto di Reddy Madeleine nel sotterraneo che stando a letto provai la tremenda intensità di queste sensazioni il sonno non aveva voluto avvicinarsi al mio guanciale le ore colavano colavano lentamente avevo tentato alla fine di dominare ragionando i miei nervi voglio persuadermi che se non proprio tutto almeno una gran parte di quel che provavo mi veniva dalla sconcertante influenza delle cose della stanza forse dalle buie tappezzerie di stoffa che vecchie lacerate in più punti tormentate dal soffio dell'uragano che saliva si agitavano a tratti sulle pareti e circondavano il letto del loro inquieto sussurro ma i miei sforzi furono vani non potevo sormontare il terrore che mi invadeva e si trasformava ormai in angoscia in un irragionevole incubo che mi opprimeva il cuore con uno sforzo più violento riuscì a sollevarmi sul capezzale appuntando lo sguardo dentro l'oscurità profonda della stanza stetti ad ascoltare non so perché se non per un avvertimento istintivo e colsi suoni bassi e misteriosi di cui non comprendevo la provenienza mi giungevano a lunghi intervalli attraverso la tempesta fu invaso da un intollerabile orrore mi vestì in gran fretta sicuro che per il resto della notte non avrei egualmente chiuso occhio e cercai di ritrovare la calma col percorrere su e giù a grandi passi la stanza avevo fatto soltanto alcuni giri a questa maniera quando un passo leggero su per la scala vicina mi fece star di nuovo in ascolto e riconobbi il passo di Osher un attimo dopo egli bussava piano piano alla porta ed entrò regendo una lampada la sua fisionomia era sempre ad un pallore spettrale ma adesso negli occhi era anche una sorta di larità insensata e tutto in lui rivelava un contenuto isterismo il suo aspetto era spaventoso ma niente poteva valere in questo senso la solitudine che mi era pesata addosso così a lungo e il suo ingresso mi fu di sollievo e voi non avete veduto egli esclamò di colpo dopo qualche istante di silenzio dunque non avete veduto ma aspettate dovrete pur vedere così dicendo dopo aver riparato con cura la lampada corse precipitosamente verso una delle finestre e la spalancò sulla tempesta il furioso impeto del vento ci strappò quasi dal suolo era una terribile notte d'uragano ma solennemente bella unica nel terrore della sua bellezza un turbine si produceva evidentemente vicino a noi perché il vento mutava continuamente di direzione e la densità eccezionale delle nuvole così basse che sembrava schiacciassero i bastioni del castello non ci impediva di distinguere la velocità con la quale quali avessero vita accorrevano da tutte le parti dell'orizzonte una addosso all'altra senza distendersi per lo spazio ho detto che la loro enorme densità non ci impediva di distinguere questo fenomeno eppure non c'era luna non c'erano stelle non c'era alcun riflesso di lumi ma la parte inferiore di queste immense nubi agitate così come tutti gli oggetti dei nostri immediati dintorni lucevano del soprannaturale chiarore ed una esalazione gassosa che pareva sempre languente e restava tuttavia visibilissima avvolgendo la casa nel suo sudario voi non dovete voi non potete vedere questo gridai gridai con un fremito oscher e con dolce violenza lo allontanai dalla finestra lo costrinse a sedere queste visioni che vi esaltano proseguì sono semplici fenomeni elettrici abbastanza comuni o forse prendono la loro sinistra origine dai miasmi pestiferi dello stagno chiediamo la finestra questa riagelida non vi può che far male ecco uno dei vostri romanzi preferiti lo leggerò voi ascolterete e questa terribile notte così la passeremo insieme il vecchio libro che avevo preso era mad thrice di l'oncelon kenning ma soltanto per modo di dire gli avevo attribuito la qualità di libro preferito perché in vero nella sua scialba e goffa prolissità c'era poco che potesse soddisfare la spiritualità altissima del mio amico eppure come era il solo che avesse a portata di mano mi abbandonavo alla vaga speranza che l'agitazione cui Osher continuava ad essere in preda trovasse qualche sollievo la storia delle malattie mentali è piena di simili anomalie appunto nell'estrema assurdità di quanto stavo per leggere ma cedicare dall'attenzione tesa con la quale venni subito ascoltato o mi parve venissi ascoltato avrei potuto rallegrarmi per il successo del mio espediente arrivai a quel conosciutissimo punto del racconto in cui Etherhead eroe di Medthrist dopo i vani tentativi per entrare pacificamente nella dimora dell'eremita si dispose ad usare bravamente la forza qui dove come noto le parole del libro sono queste Ed Etherhead che era stato sempre valoroso adesso era anche forte grazie all'efficacia del vino bevuto non si rassegnò a parlamentare ancora a lungo con l'eremita in quale decisamente aveva la testa dura e maliziosa ma sentendo la pioggia sulle sue spalle e temendo che si mutasse presto in tempesta alzò bene la mazza e in tre o quattro colpi si aprì un passaggio tra le assi della porta per la sua mano inguantata di ferro tirando poi a gran forza con la quale schiantò e strappò tutto a pezzi così che il fracasso del legno secco risonò e gettò l'allarme da un punto all'altro della foresta avevo terminato appena questo periodo che trassalì arrestandomi un momento mi era sembrato ma subito pensai a un gioco dell'immaginazione udire in una parte remota della casa come un'eco esattamente analoga benché soffocata e sorda al rumore di legno schiantato e strappato a pezzi che era stato con tanta proprietà descritto da Sarlon Slot doveva avermi impressionato senza dubbio una pura coincidenza da che fra i gemiti dei terai delle finestre e tutti gli altri rumori dell'uragano sempre più intenso quella sensazione in se stessa non aveva niente di preoccupante e proseguì la lettura ma Eterrid il campione era entrato finalmente per quella porta si meravigliò e si infuriò grandemente di non trovare traccia del malizioso eremita al suo posto stava un drago mostruoso scintillante di scaglie e con la lingua di fuoco che sorvegliava l'ingresso di un grande palazzo d'oro con l'impiantito d'argento dal muro del palazzo pendeva un luminoso scudo di bronzo che portava scritto chi è entrato qui ha mostrato di essere un conquistatore ammazzi il drago e avrà vinto lo scudo ed Eterrid sollevò di nuovo la mazza e la calò potentemente sulla testa del drago il quale cadde ai suoi piedi e rese l'anima pestifera con un urlo così orrido ed aspero insieme così penetrante che Eterrid dovette sbarrarsi le orecchie con le mani per non udirne il suono spaventoso il peggiore che avesse mai udito qui ancora dovetti fermarmi e stavolta con sbarrimento non c'era dubbio adesso che io non avesse udito ma non avrei saputo dire in che direzione un suono basso e apparentemente lontano ma lungo aspro e stranamente stridente in analogia perfetta con quel che avevo immaginato dell'urlo soprannaturale del drago questa nuova straordinaria coincidenza mi destò una folla di pensieri contradditori dentro a un senso di sbalordimento e di terrore ma conservai almeno la presenza di spirito per non risvegliare con nessun richiamo la sensibilità morbosa del mio compagno non ero sicuro che avesse udito benché da qualche minuto egli avesse stranamente mutato posizione spostando a poco a poco la poltrona che prima era di rimpetto alla mia fino a guardare verso la porta della stanza del suo viso scorgeva malapena il tremito delle labbra che parevano mormorare parole ineffabili la testa gli pendeva sul petto eppure mi accorcevo che non dormiva dagli occhi che gli vedevo di profilo spalancati e rigidi anche il movimento del suo corpo d'altronde escludeva il sonno poiché andava in un dolce dondolio uniforme da sinistra a destra da destra a sinistra ma appena notato tutto questo ripresi la lettura e adesso il campione scampato appena dalla ferocia tremenda del drago rammentandosi dello scudo di bronzo e che l'incantesimo era spezzato rimosse il cadavere che circondava il castello dirigendosi verso lo scudo ma in verità questo non attese la sua venuta e da solo gli cadde ai piedi con uno strepito metallico vasto e potente a questo punto come se davvero uno scudo di bronzo fosse caduto pesantemente sopra un impiantito d'argento avvertì con precisione un rumore metallico profondo sonoro ma come soffocato coi nervi stravolti balzai in piedi il movimento del corpo di Osher continuava ininterrotto uniforme mi slanciai verso la sua poltrona gli occhi di lui rimanevano fissi verso la porta e tutto il viso era ad una rigidezza di pietra ma quando gli toccai la spalla con la mano un brusco fremito lo percorse da capo a piedi un sorriso malato tremolò sulle sue labbra e vidi che come non curante della mia presenza egli mormorava parole precipitose inarticolate piegandomi su di lui riuscii finalmente a comprendere il loro tremendo significato non sentite io sento sì e ho già sentito a lungo a lungo a lungo per tanti minuti per tante ore per tanti giorni ho sentito ma non osavo oh vietà di me sciagurato che sono non osavo non osavo parlare noi l'abbiamo chiusa ancora viva nella tomba e ve l'ho detto che ho dei sensi acuti e ora vi dico che ho avvertito i suoi primi deboli movimenti dentro la bara l'ho avvertito da molti da molti giorni ma non osavo non osavo parlare e adesso stanotte la porta dell'eremita che va in pezzi e il tremendo rantolare del drago e lo strepito dello scudo dite piuttosto lo squarciarsi della bara e lo stridore dei cardini di ferro e la marcia disperata lungo il corridoio foderato di rame dove posso fuggire forse lei non giungerà subito non si precipiterà forse a rimproverarmi la mia fretta non ho già avvertito i suoi passi su per la scala non distingo forse il battito pesante terribile del suo cuore insensato qui egli si alzò di scatto e gridò sillaba per sillaba come se questo sforzo gli strappasse la vita insensato vi dico che ora essa è dietro la porta come se l'energia superumana della sua esaltazione si fosse mutata in potenza di incantesimo i grandi battenti d'antico ebano che Osher indicava spalancarono con lentezza in quell'istante le pesanti macelle fu conseguenza ad una furibonda ventata ma dietro la porta stava nel suo sudario l'alta figura della di Madeleine Osher c'era sangue sulle sue vesti bianche e tracce ad un combattimento atroce in ogni punto della persona per un attimo essa rimase tremando e vacillando sulla soglia poi con un lamento profondo cadde pesantemente in avanti addosso al fratello e nella definitiva agonia si tracinò insieme il corpo di lui che il terrore aveva fulminato fuggì inorridito dalla stanza dalla casa l'oregano sfogava ancora tutta la sua ira quando mi trovai sul terrapieno all'improvviso una luce livida riempì la stanza e mi voltai per vedere da che luogo potesse provenire col suo splendore così strano c'è che soltanto la vasta ombra del castello stava dietro di me ma la luna piena color di sangue splendeva ora attraverso la fessura una volta visibile appena che ho detto come percorresse la facciata a zigzag dal tetto alle fondamenta mentre guardavo la spaccatura si ingrandì rapidamente sopravvenne un furioso turbine di vento subito l'intero disco della luna si presentò ai miei occhi e il cervello mi venne meno al vedere che le possenti moraglie crollavano si produsse un fracasso immenso e tumultuoso come la voce di mille cateratte poi la palude buia ai miei piedi si richiuse in tetro silenzio sulle macerie della casa degli Osher